Vai. Angelo Valente, Apulia Smash 2017, categoria a scale, bilanciere da 20 kg, disco da 10, disco da 10, kettlebell da 24 kg, ok. Abbassiamo un po' la musica? Sì, d'accordo, l'importante è che mi gridi. Vito, abbassate la pera la musica? 4, 6, 8? 2, quando vuoi? 10, 5, 4, 3, 2, 1, go! 2, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 9, 10. Dai, dai, dai Due Quattro Sei Otto Dieci, dai, dai, che c'è 50 secondi, dai Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Grande Angelo, vai Vai, dodici Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Cinque Quattro Tre Due Uno, stop Otto, mi sa E' finito, mi fermo Buono Buono Angelo Buonissimo Buonissimo Straccia i polsi I polsi Avambracci Tre minuti Tre minuti Dai Un minuto Dai Un minuto, dai 20 secondi 20 secondi Quasi Ora 20 Dieci Dieci, Angelo Dieci, Angelo Cinque Quattro Tre Due Uno Go Uno Due Tre Quattro Calma Dai Dai, 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 dai Tre Due Uno Attacca Dai 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 Dai, dai, dieci secondi Dieci secondi Dai, dai, a qualche altro ripetizione Tira, dai, 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 dai Quinti Uno Resto Quinti Quinti Grazie a tutti. Dai, dai, hai fatto casino al primo, ciao. 10, 5, 8, 4, 6, 3, 4, 2, 2, 1. 30 secondi. 30. 10, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 6, 10. E 5. 8, buona. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Su, 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 che l'hai finito. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Dai che lo chiudi meno di due minuti, attaccati. Buona. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10.